Immagina di essere un ladro, un truffatore, un furfante. Deruberesti il tuo stesso clan? No, no, no! E se mentre scappi con l'area furtiva ti imbattessi in una coppia di ricchi cadaveri che si sono lasciati alle spalle una splendida villa dove nessuno li conosce? Ne prenderesti il posto? La famiglia di Wayne? Sì. Noi siamo la me! Drices. Dal 26 luglio su FX. Grazie a tutti.